Come ti chiami? Sara. Anna Lisa. Età? 27. Non si chiede l'età, una signorina. Quanto è che balli? Da tanto direi, da quando ero piccolina, ma molto piccola. Io pure non lo ricordo più. Visto che sei maestra, cosa insegni? Il ballo del po' qua. Pizzica. Perché balli? Perché mi piace, mi piace trasmettere alle persone quello che io so e tutta la mia passione. Mancano le mani, quando la Sara parla, dice perché mi piace, perché io invece ballo perché mi piace. Quanto fai l'amore in media di una settimana? In media tutta la settimana, vediamo. Quando sono stanca, un giorno sì, un giorno no. Io in base a chi trovo libero? Dizione preferita. Dopo questa domanda non rispondo. A me diciamo che il Kama Sutra, come dico, lo leggo spesso. Poi la faccia della donna che seduce. Mettici. Ma la faccia della donna. Ma la faccia di occhi. No, non c'è la forma. Che bubbi. Poi una linguaccia. Faccia sorridente. Fai un passo di danza. Eh sì. La pizzi, la pericina. Qual è il tuo amante? Non ce l'ho. Io amo solo il mio amore, Daniele. Io ce l'ho, si chiama Cristina Nico. Che sei il cuore? Nico. Entriamo nel vivo dello spettacolo. C'è nel spettacolo più bello del nostro? No. 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 Vogliamo peccare? Di presunzione? No. Manda un bacio. Dopo ero. Ecco, dopo ero. Cosa diresti a tutti i tuoi allievi? Amate la danza più di voi stessi. I bocca al lupo. Fai un saluto alla Disca e Roll 2. Disca e Roll 2. Dos.